buongiorno buongiorno e forza ragazzi allora il giorno prima il giorno prima di empoli fiorentina eccoci qua il derby toscano mister viola vi dà il benvenuto e vi dice che l'è un po preoccupato perché la fiorentina iniziata bene ma non benissimo tante piccole incertezze soprattutto in fase difensiva ma soprattutto dopo l'italiano ha detto ho bisogno di 25 giocatori equivalenti tra di loro parliamoci chiaro e un ci sono non ci sono quindi voglio essere franco con voi anche se mi chiamo andrea battuta scavolosa però è venuta così molto alla mano sono un po preoccupato per la partita con l'empoli ma vi dirò di più sono anche preoccupato per il ritorno del ritorno col 20 in olanda ragazzi sono un po preoccupato però se il tuente ancora è distante cinque giorni ok domani c'è l'empoli partita difficilissima avrei preferito incontrare una grande squadra ve lo dico proprio onestamente avrei preferito incontrare una grande squadra perché perché la grande squadra te la prepari da solo la grande squadra la partita o la grande squadra si prepara da sola cioè non c'è bisogno di motivare non c'è bisogno di far niente la grande squadra gioia contro il milan gioia contro l'inter contro la juve contro la roma il napoli tre fare da solo con l'empoli è più difficile ma soprattutto perché l'empoli comunque è una squadra che gioca un buon calcio secondo me ha cambiato il tecnico ma secondo me ci sono giocatori importanti nell'empoli o comunque funzionale al loro gioco e la ferentina potrebbe soffrire di questo anche perché la ferentina in questo momento si legge molto bene c'è l'avversario che dice ok arriva la ferentina cosa farà la ferentina farà un primo tempo a palle poi cala nel secondo tempo quindi gli avversari come potrebbero reagire reagire dicendo ragazzi cerchiamo di tenere botta loro ci attaccheranno in maniera forse nata non prendiamo gol tanto poi loro calano fisicamente noi barda poi li riprendiamo subito oppure loro attaccano attaccano attacco ma in difesa concedono tanto perché purtroppo è la realtà dei fatti la ferentina concede tanto in difesa l'ha concesso la remonese l'ha concesso con il tuente ma soprattutto regala minutaggio nel secondo tempo all'avversario ma è una cosa che ci portiamo dall'anno scorso è una cosa ci portiamo da due anni prima cioè la ferentina o il primo o il secondo tempo lo regala in questo momento abbiamo iniziato dicendo che il primo tempo è di caratura viola non esiste avversario però dai cinquantesimo al sessantesimo del secondo tempo comincia a venire fuori l'avversario e vi dirò di più fa anche fatica a leggere la formazione di domani perché ora avete visto che italiano ha ruotato a parte alcuni giocatori però ha ruotato tanto la rosa a parte bilaghi a parte milenkovic a parte ammar rabatti in questo momento che è indispensabile nel mezzo al campo cioè voi immaginate un centrocampo senza ammar rabatti già ci rizzano capelli voi pensate come è cambiato dall'anno scorso la situazione del centrocampo della ferentina l'anno scorso si pensava senza sorrere oddio come si fa a giocare ammar rabatti speriamo bene oggi invece diciamo speriamo giochi a ammar rabatti perché è iniziato un campionato straordinario ma proprio una una stagione fantastica ammar rabatti è cresciuto tantissimo cosa mi aspetto da questa ferentina io mi aspetto che domani la ferentina cerchi in qualche modo di congelare la partita anche continuando con la propria filosofia di gioco cioè a palla iniziamo a bomba proprio papà papà adesso un martello pneumatico un martello pneumatico in cui l'avversario deve capire dove arrivano i palloni però bisogna essere concreti là davanti cioè il primo tempo lo devi finire con molti gol sullo score devi avere un deve buttare dentro il pallone due o tre volte allora sai ti dico ok se nel secondo tempo regali qualcosa all'avversario perché devi rifiatare perché ora le gambe atletiche non ce l'hanno tutti non si riesce a reggere comunque 90 minuti ad alto all'alta intensità ad alto ritmo è anche vero che poi per l'avversario è più dura recuperare tre gol piuttosto di recuperarne uno però li devi fare tre gol la flentina con la camionese poteva fa 4 5 gol con il tuente poteva fare uno barra due gol in più rispetto ai due segnati parliamoci chiaro si sbaglia ancora un po' all'avanti poi è anche vero che ci sa un po' di sfortuna perché è il primo tiro dell'avversario borda si piglia gol e questo l'ha detto anche vincente italiano mi auguro che questo non accada domani con l'empoli è un derby è un derby quindi comunque anche è sentito a livello di città deve essere sentito anche per i giocatori però sono preoccupato cioè onestamente oggettivamente parlando calcisticamente parlando realisticamente parlando sono un po' preoccupato cioè sarei bugiardo a dirvi che non lo sono perché l'empoli mi dà preoccupazioni ma non perché la fiorentina possa essere distratta alla partita ovituente no mi dà preoccupazione l'empoli in sé vedendo questa fiorentina come potrebbe essere perforabile in fase difensiva è vero forse torna igor però ricordiamoci che igor viene da un infortunio quindi è due partite che non gioca ci sarà milenkovic chiamato nuovamente a fare altri 90 minuti come minimo perché dopo i 96 fatti con la cremonese e i 95 fatti con il tuente è richiamato nuovamente a reggere la difesa come sarà richiamata a reggere la difesa bidaghi cioè a lungo andare questi calciatori avranno bisogno di rifiatare ecco perché la fiorentina dice italiano bisogno di 25 giocatori equivalenti anche se non ci sono perché voi immaginate domani riposa milenkovic e metti dentro una stessa quarta abbiamo visto che entrambi i due difensori che regalano l'avversario dei momenti di defaianza roba a chiodi ma io la davanti per esempio partirei nuovamente con sottil partirei con gonzalez e partirei con jovic cioè metterei questo questo attacco qua a centrocampo farei rifiatare male vi dico la verità farei rifiatare male giocherei con ammarabat giocherei con duncan e giocherei con un buonaventura un po di più muscolarità centrocampo con duncan che può essere più utile forse in un centrocampo come quello dell'empoli che comunque si ha qualità con alcuni elementi però è sicuramente un centrocampo che ha anche quantità piuttosto che malè che l'ho visto in debito d'ossigeno a un certo punto con con il tuente e mi va a togliere duncan quindi secondo me anche italiano ha ragionato che forse è più utile duncan con l'empoli che malè che forse un pochino più leggerino per poi farlo riposare rifiatare per il ritorno nel nell'inferno no olandese che poi vorrei ricordare una cosa è l'inferno e si è scritto noi vabbè ma detto questo lascia stare quindi partita difficilissima vi ho detto già la formazione perché se poi parto dal presupposto che gioca inco igor milenkovic io butterei dentro il dodò dal primo cioè a questo punto ragazzi venuti ha fatto una bella partita col tuente però lo butto dentro dal primo minuto ho bisogno che faccia minutaggio è inutile li fa cinque minuti e cinque minuti cinque minuti a voglia di recuperare altrettamente sto ragazzo con l'empoli gioca dodò dal primo minuto lo butti in mezzo con igor milenkovic biraghi centrocampo fatto da marabat bonaventura e d'ancane un attacco con gonzale sottile e jovic e cerchi di congelare la partita subito poi hai cinque cambi al tuo disposizione e fai la girandola che ti pare e poi pensi ai tuente però quando c'è il triplice fischio finale dell'empoli tu pensi ai tuente perché domani c'è da pensare prima all'empoli questo è fondamentale capito ragazzi dai forza viola ciao